Per quanto riguarda la terapia chirurgica del tumore della mammella, il trattamento standard è la conservazione della mammella. Tuttavia, un 30% delle donne, quindi circa un terzo delle pazienti, necessitano, per ragioni oncologiche o per ragioni tecniche, di un intervento più radicale, che richiede l'asportazione di tutta la ghiandola mammaria. La ricostruzione della mammella può essere eseguita in due tempi, quindi con un duplice intervento chirurgico, oppure in un tempo unico. Fino ad oggi, nella maggior parte delle pazienti, l'intervento veniva eseguito in due tempi. Nel primo tempo, in seguito all'asportazione della ghiandola mammaria, veniva posizionato un espansore, e cioè una protesi temporanea, necessaria ad espandere i tessuti e a creare un maggior spazio al di sotto del piano muscolare per poter accogliere quella che sarebbe stata poi la protesi definitiva. Nel secondo tempo chirurgico, questo espansore, quindi questa protesi temporanea, viene rimossa e sostituita con la protesi definitiva. Nella ricostruzione mammaria, in un unico tempo, la protesi viene posizionata contestualmente all'intervento di mastectomia. Questo tipo di intervento non è però possibile in tutte le donne, ma in un numero limitato di pazienti. Negli ultimi anni è stato possibile aumentare le indicazioni, quindi aumentare il numero di pazienti alle quali poter proporre una ricostruzione con un unico intervento chirurgico, grazie all'utilizzo di materiali di natura sintetica o di derivazione animale. Il progetto Moda è un progetto innovativo in ambito senologico. Siamo i primi in Italia ad utilizzare questo tessuto. Questo progetto ci permetterà di evitare alla donna un doppio intervento, di esporsi al rischio di complicanze post-operatorie per due volte di seguito, di essere sottoposte ad una duplice anestesia e quindi di evitare un doppio vissuto di malattia alla donna. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita delle nostre donne e quindi di poter consentire di tornare ad avere una buona immagine di sé. Questo tessuto permette, grazie alla sua elasticità, alle sue caratteristiche di morbidezza, permette di ottenere una forma più naturale della mammella e dà anche una consistenza di maggiore morbidezza. Quindi questo permetterà alle nostre donne di migliorare la loro qualità di vita.